Benvenuti a tutti dal Tg delle cooperative di Radio Copp 76, la radio di Conf Cooperative Viterbo. Partiamo subito con una notizia proveniente da Conf Cooperative Lazio, in particolar modo da un commento del presidente di Conf Cooperative Lazio, Carlo Mitra, in merito ad alcune decisioni prese proprio ieri dalla regione Lazio. Dalla regione un segnale forte di discontinuità sulle politiche di accesso al credito, ha detto Carlo Mitra. Il presidente di Conf Cooperative, appunto Carlo Mitra, a margine della conferenza stampa dell'assessore Fabiani, ha commentato favorevolmente le scelte della regione in materia di riorganizzazione degli strumenti di intervento per favorire l'accesso al credito delle imprese e cooperative del Lazio. Si tratta di un insieme organico di interventi che per la prima volta, sottolinea Mitra, vanno nella direzione di favorire le imprese laziali sia dal punto di vista delle opportunità di accesso e garanzie ed anche semplificando la filiera delle società che finivano per gravare sulle risorse disponibili assorbendone una quota rilevante. Si tratta di un segnale importante, ha concluso Mitra, per tutto il sistema produttivo laziale e per premiare lavoro e impresa aiutando la ripresa della nostra economia. Passiamo adesso alle notizie provenienti dal mondo dei consumatori, in particolar modo le notizie riportate dal portale Help Consumatori. Isei, il Consiglio dei Ministri approva un nuovo indicatore. Via libera al nuovo Isei, il Consiglio dei Ministri ha approvato infatti il decreto di riforma dell'indicatore della situazione economica per affrontare lo scandalo dei finti poveri, come ha sottolineato il premier Enrico Letta, secondo cui si interviene in modo significativo in favore delle famiglie e dei disabili. Più controlli in vista, il nuovo Isei servirà anche a restringere il campo dell'evasione fiscale. Maggior peso a case e patrimoni sarà considerato il valore degli immobili rivalutato ai fini Imu, invece che Ishi, mentre sarà ridotta a 6.000 euro la franchigia della componente mobiliare. Passiamo ora ad una notizia riguardante invece il mondo dei farmaci, novità contro contraffazione e siti illegali. Importanti novità nel settore dei farmaci grazie ai decreti legislativi approvati ieri dal Consiglio dei Ministri in attuazione delle direttive europee. Il Ministero della Salute ha ora il potere di oscurare i siti che commercializzano illegalmente farmaci con obbligo di prescrizione o in violazione di legge grazie alle segnalazioni che arriveranno dai NAS e dagli altri organi di polizia e anche dall'AIFA. Viene inoltre inserito, sottolinea il portale Help Consumatori, un codice comunitario per impedire la vendita di farmaci contraffatti. A spiegarlo è stato proprio il Ministro Beatrice Lorenzin ai margini del workshop sui farmaci personalizzati di Londra. Infine, una notizia riguardante il mondo dei trasporti, TPL, indagini antitrust, gare aperte e trasparenti per superare la crisi cronica. Il trasporto pubblico locale ha un'importanza strategica per l'economia italiana e il benessere della società, ma nel nostro Paese si soffre di insufficienza cronica di risorse. Sono indispensabili gare aperte, trasparenti e non discriminatorie per i servizi di trasporto pubblico locale. Questo è quanto è stato sottolineato da Giovanni Pitruzzella, presidente dell'antitrust, in audizione ieri presso la Commissione Trasporti della Camera. È necessario, secondo Pitruzzella, adottare gare aperte, trasparenti e non discriminatorie per i servizi di trasporto pubblico locale, i cui oneri e le modalità di determinazione delle compensazioni economiche devono essere resi pubblici. Queste sono le posizioni di Pitruzzella, che ricordiamo essere il presidente dell'antitrust. Passiamo ora invece alle notizie riguardanti il Vitervese, tutti col fiato sospeso per il riconoscimento della macchina di Santa Rosa come patrimonio UNESCO. Gran parte degli amministratori, il capo dei Facchini Meccarini, il sindaco di Viterbo Michelini, l'assessore alla cultura del comune di Viterbo Giacomo Barelli, sono a Bacu per assistere ai lavori che partiranno alle ore 15 di Bacu, quindi mezzogiorno, mezzogiorno e un quarto, ora locale, e lavori che porteranno appunto al riconoscimento della macchina di Santa Rosa. L'articolo che riporta Tuscia Web, Trasporto macchina di Santa Rosa, oggi riconoscimento UNESCO, a Bacu i lavori partono alle 15 ora locale e la discussione potrebbe essere anticipata. Trasporto della macchina di Santa Rosa, patrimonio immateriale dell'umanità, scrive Tuscia Web. A Bacu, in Azerbaijan, sono cominciati i lavori della Commissione UNESCO che dovranno decretare riconoscimenti, fra cui quello alla rete delle grandi macchine a spalla. Il programma dei lavori prevedeva la discussione che riguarda Viterbo e le altre città che fanno parte della rete domani, ma con tutta probabilità saranno anticipati ad oggi. La delegazione partita da Viterbo è composta da 5 persone, fra cui il sindaco Leonardo Michelini, l'assessore alla cultura Barelli, il presidente del sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, con due rappresentanti. Presidente del sodalizio dei Facchini, ricordiamolo, si chiama Mecarini. Sono partiti il 2 dicembre e il rientro è previsto per il 6. L'8 dicembre è in programma un festeggiamento in rete con le altre realtà coinvolte, mentre a Viterbo il 10 dicembre si dovrebbe svolgere un consiglio comunale aperto sul riconoscimento della macchina. Sempre su Tusha Web, alle primarie, stiamo parlando delle primarie del Partito Democratico, voto secondo coscienza. Fioroniani libera uscita, ufficialmente l'appoggio a Cooper lo resta, ma l'area popolare si sta disimpegnando. Libertà di voto, scrive Giuseppe Ferlicca su Tusha Web. A quattro giorni dalle primarie per la scelta del segretario nazionale del Partito Democratico, in zona Fioroni si rincorrono su come comportarsi domenica al seggio. L'orientamento sarebbe di votare secondo coscienza. Se poi la coscienza dovesse portare a mettere una croce sul nome di Matteo Renzi, tanto meglio. È quello che scrive Giuseppe Ferlicca su Tusha Web. Passiamo ora all'altro quotidiano online di Viterbo, vale a dire Viterbo News 24, anche il quotidiano Viterbo News 24 apre sull'attesa per la proclamazione della macchina di Santa Rosa patrimonio UNESCO. Anche in tal caso si dà, come ora prevista, le 12 italiane e le 15 di Bacu. C'è anche una dichiarazione di Mecarini. Mecarini, cresce la tensione. Ovviamente si tratta di un risultato molto importante per i Facchini, per la città di Viterbo e per tutto il territorio della provincia viterbese. Per quanto riguarda la dichiarazione di Mecarini, stiamo andando all'hotel Marriott per accreditarci, ha detto il presidente del sodalizio Mecarini a Viterbo News 24. Alle 15, le 12 in Italia, inizia la discussione per il riconoscimento e iniziamo a sentire la tensione. Come detto, la proclamazione della rete delle grandi macchine a spalla, salvo ritardi, dovrebbe arrivare in tarda mattinata. La valutazione, prosegue l'articolo di Viterbo News 24 firmato da Alessandra Pinna, la valutazione delle candidature per l'iscrizione nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità sarà il punto 8 dell'ordine del giorno. Viterbo News 24 riporta anche la notizia della giornata di Santa Barbara, la santa dei Vigili del Fuoco. Deposta al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo una corona in onore dei colleghi defunti. Il vescovo ha celebrato poi una messa nella chiesa di Sant'Angelo Ispata, presenti alla celebrazione religiosa il vice sindaco, il prefetto e il questore di Viterbo. E con questa notizia e con l'attesa per la proclamazione della macchina di Santa Rosa, il cui trasporto cade il 3 settembre di ogni anno, con l'attesa appunto di questa proclamazione che dovrebbe arrivare nel giro di poche ore direttamente da Baku, direttamente dall'Azerbaijan, vi salutiamo dandovi appuntamento per una nuova puntata del TG Cop a domani sempre alle 12.30, sempre su Radio Cop 76, la radio di Conf Cooperative Viterbo. Grazie a tutti!